Bentornati al format la rivista Weekly Shonen Jump. Oggi parleremo della numero 3 2024 che si apre con la cover e con la color successiva di Sakamoto Days però questa color ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai fan dell'opera perché adesso che sto girando il video ancora il Jump Festa non è terminato ma è molto molto difficile che vi sia un annuncio diciamo in breve termine di un anime di Sakamoto Days ed è una cosa molto molto particolare perché sono stati annunciati anime di prodotti usciti più o meno nello stesso periodo o anche successivi e quindi c'è qualcosa che probabilmente non quadra. Di solito questi annunci arrivano anche diciamo con anni di anticipo magari mesi principalmente 5 o 6 mesi però addirittura anche con anni d'anticipo perché il contratto di produzione con la casa di animazione non lo sigli da un giorno all'altro è già un qualcosa con cui tu hai un accordo parecchio diciamo anticipato e sembra che non ci sia nessuna novità. Potrebbero esserci dei problemi di produzione e di contratto con la casa di animazione appunto. Al numero 1 dell'indice troviamo Blue Box che d'ora in poi sarà sempre di più sotto i riflettori della rivista che vorrà pubblicizzarlo sempre di più perché durante il Jump Festa è stato rilasciato il trailer dell'anime un trailer fatto davvero davvero bene e che ha già colto tanto tanto entusiasmo in patria ma non soltanto in patria e come succede sta succedendo per altri anime in questa stagione Blue Box potrebbe essere uno di quelli che farà il super mega boom di vendite appena l'anime andrà in onda e sarà appunto in stagione. Numero 2 abbiamo Jujutsu Kaisen che sta facendo faville e tutti parlano dell'anime tutti parlano solo ed esclusivamente di quello ma questo anime ovviamente sta facendo da traino a chi giustamente ha l'opera quindi al manga che sta sempre lì sopra e tra l'altro la prossima settimana avrà una copertina e una color dedicata. Abbiamo la color di Kill Blue che sta superando alcuni manga diciamo del blocco degli indecisi in termini di gradimento ed è una scelta comunque importante che però non rispecchia le vendite perché nonostante abbia venduto 26.000 copie l'ultimo volume uscito c'è stato un calo del 18% delle vendite ed è un calo enorme tra un volume e l'altro quindi vuol dire che è successo qualcosa e il pubblico lo sta apprezzando meno. E molti analisti del settore stanno dicendo che probabilmente anche il volume che uscirà dopo subirà un calo di vendite e non si riesce a capire come mai la rivista stia cercando comunque di spingerlo. Al numero 3 troviamo di nuovo sul lato di sinistra come abituè Akane Banashi che risulta essere uno dei manga non anime quindi che non ha l'adattamento anime più venduti in Giappone e come terzo in classifica della rivista dietro soltanto Sakamoto Days e Blue Box che ormai l'anime è stato annunciato quindi speriamo, io sto sperando vivamente in quest'ultimo giorno di Jamfesta di scoprire l'adattamento animato anche di Akane Banashi ma anche lì per ora la vedo dura. Quarto posto troviamo Anded and Luck che sta riscuotendo buon successo con i suoi ultimi numeri perché comunque l'anime sta andando benino. Tra la novità abbiamo sempre Green Green Greens che a me è piaciuto, aveva dato delle buone vibes e la rivista sta comunque cercando di spingerlo e tenerlo nella parte alta dell'indice però pare che non stia piacendo così tanto in Giappone quindi attenzione a una possibile chiusura. Troviamo anche un capitolo speciale o comunque uno special di Dr. Stone che fa sempre estremamente piacere troviamo la color di Neus Exorcist che attenzione come vi avevo detto nelle scorse settimane io non conoscevo però mi sono informato sempre di più e comunque anche i dati statistici dicono che sta aumentando le vendite sta aumentando di gradimento nonostante però la rivista pensava che potesse andare ancora meglio però comunque il pubblico lo sta apprezzando ma non con le aspettative della Weekly e qua c'è da capire effettivamente se queste aspettative che non sta rispettando saranno comunque un motivo di debug da parte della rivista o comunque il suo incremento statistico può ritenerli comunque soddisfatti e allora fallo spingere ancora di più. Al quinto posto abbiamo The Elusive Samurai che ormai è in attesa dell'adattamento animato c'è tutto l'annuncio tutto fatto quindi diciamo che manterranno l'opera viva aspettando ovviamente un ipotetico successo dell'opera e dell'anime per poter spingere come succede spesso il manga. Sempre tra le novità abbiamo Shadow Eliminators che ha avuto un pessimo riscontro davvero un pessimo riscontro in Giappone poche letture, poche interazioni, tanti commenti negativi quindi forse non arriva neanche al primo volume c'è questa sensazione di imminente cancellazione dell'opera. Poi abbiamo la Color di Kagura Bachi e qua c'è da analizzare alcune situazioni del manga che probabilmente soltanto in occidente è diventato meme e quindi si è tutti precipitati a leggerlo quando è uscito però comunque in Giappone non sta andando per niente bene tolto l'entusiasmo dei primissimi capitoli e infatti sta utilizzando la rivista la stessa strategia che sta utilizzando con gli altri manga che sono in precinto di chiusura perché poi va a ciclo, le chiusure vanno a ciclo nelle riviste non è che domani prendono e tagliano un manga per sempre a dire buonanotte no, ovviamente cercano di creare dei cicli e quello di Kagura Bachi potrebbe essere febbraio-marzo quindi più o meno a quel ciclo là ci arriviamo e lì potrebbe essere tagliato se non ricresce nel gradimento o al massimo maggio-giugno dando il tempo all'autore di dire ok, vai già con la chiusura fammi dei volumi che mi permettano di avere una storia completa vendibile però poi buonanotte al sesto abbiamo Witch Watch che comunque è uno di quei manga che ogni tanto sta a sinistra ogni tanto sta a destra diciamo che galleggia su quella zona lì ma nulla di preoccupante ovviamente al settimo posto abbiamo Yozakura Family che la scorsa settimana ha avuto una bella color comunque c'è l'anime che è stato annunciato ma ovviamente sta su quel lato là perché è un manga in procinto di chiusura dovrebbe finire al massimo entro la prima metà del 2025 se proprio vuole allungare i tempi e ci sta che non stia nelle primissime posizioni perché comunque ormai quello che doveva dare l'ha dato e al massimo verrà spinto poi per la vendita degli ultimi volumi da qua in poi la situazione per questi manga non è delle più positive anzi per niente troviamo all'ottavo posto Martial Master Asumi che ogni volta devo ripetere 30 volte per dirlo che anche questo farà delle vendite scarsissime quindi sicuramente il prodotto potrebbe essere cancellato poi abbiamo al nono posto che qua è una situazione diversa quindi l'unico da non prendere in considerazione è Mero Boko che comunque è un manga che fa il suo è un manga che fa il suo lo fa bene fa ridere ovviamente non sfonda ma la rivista porterà avanti finché può al decimo abbiamo Mamayuyu che sta ricevendo lo stesso trattamento di Kagura Bachi stanno provando a capire se tenerlo in piedi o meno però anche quello sarà in procinto di cancellazione all'undicesimo abbiamo Cyber Academy che più che altro secondo me la rivista non sa ancora cosa farci di questo manga ecco secondo me e all'ultimo abbiamo True On Ice che anche in questo caso è lì nel limbo appena finiscono le vendite finiscono le vendite buonanotte però chiariamo un concetto la chiusura di un'opera non è una chiusura che viene fatta a taglio netto o decidono di farlo subito e quindi è ancora plausibile farlo o se no si aspettano come dicevamo prima dei cicli per poter almeno vendere i primi tre o quattro volumi e dire opera conclusa è quello il concetto che c'è dietro o se le cose vanno male male ma che ne so se è all'ottavo volume sto sparando un numero a caso la rivista dice hai ancora due volumi a disposizione e poi buonanotte quello è non è che prendano e vengono cancellati e fatti sparire gli autori il discorso di base è che comunque certi manga sono a rischio soprattutto in questo periodo perché c'è un classico elefante nella stanza che però sembra non si veda che è Ruri Dragon Ruri Dragon è stato messo in pausa per un bel po' di tempo per problemi di salute dell'autore ma sembra che stia per ritornare e attenzione perché Ruri Dragon è una chicca assurda che al pubblico giapponese era piaciuta tantissimo e infatti ci si era un attimo sorpresi della non sostituzione di Black Clover che era uscito dalla Weekly per andare su Giga Jump con un manga che magari era su altre riviste ma che andava tanto forte e quei che quindi potevano scegliere di spostarlo direttamente su Weekly è stato lasciato proprio il posto a Ruri Dragon sapete poi perché perché poi uno parla ma qua è tutto un discorso di numeri Ruri Dragon aveva venduto all'uscita del primo volume quasi un milione di copie avvicinandosi al record di vendita del primo volume di Assassination Classroom che era arrivato un milioncino di copie quindi capite perché si stia tenendo il posto a Ruri Dragon e si stia valutando di cancellare opere che effettivamente vendono poco e nulla io avrei voluto farvi una bella analisi anche sul come vengono decise le vendite le cancellazioni soprattutto gli spostamenti da una rivista all'altra però il video sta durando davvero tanto quindi è un argomento che mi terrò per un altro video per un altro video quindi per i pazzi della tecnica della statistica di questo settore venite poi a dargli un'occhiata quando volete o se no o se no se riesco se riesco ve lo scrivo in un articolo blog però questa è una cosa che non è detto che sia una novità o meno vi farò sapere sui miei canali quindi seguitemi lì e grazie per aver seguito questo video